Sono Jack e sono un pirata, capitano della nave Bessie. Ho navigato i sette mari, ma con tutta quest'acqua la mia gamba di legno si è indebolita. Scontrandomi con lo scuolo, il risultato della notte era inevitabile. Alla fine, lui ha avuto la meglio. Ma nonostante lo sconforto, non mi sono andato per vinto. La risposta ai miei problemi era davanti ai miei occhi. Pronto? Teogene? Vorrei una protesi adatta alle mie esigenze. Vado subito a ritirarla al monotrack. Mi calzo a pennello, come una sciabola viena affilata nella sua fondina. È splendida, leggera e resistente. Ma ecco all'orizzonte il mio cerrimo nemico. Con un balzo mi addosso. Ma ho 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 ho, hai fatto male i tuoi conti. Dopo la mia schiacciante vittoria, ci penserò a due volte a tornare. Il povero squalo è rimasto senza denti. Però con Teogene c'è sempre un lieto fine per tutti. Grazie. 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 Grazie.